ragazzi mi sto divertendo come un bambino ho montato le gomme tannus quelle piene quelle che non si forano sulla mia seconda bicicletta che utilizzo per fare le mie scorribande dentro il bosco in effetti un po strano vedere una bicicletta da corsa nel bosco ma grazie alle gomme tannus mi sto divertendo tantissimo ok ragazzi oggi parliamo di come affrontare le salite chi va nei boschi con le mountain bike oppure chi vuole salire le montagne con le biciclette la strada deve allenarsi per aumentare diciamo così lo sforzo che serve per superare salite molto ripide o salite molto lunghe quando ci si prepara ad affrontare salite molto lunghe le ripetute dovranno stare molto di più sulla soglia quindi ad esempio un tre per otto cioè tre volte per otto minuti a intensità molto alta se invece abbiamo salite leggermente più brevi ma comunque molto intense possiamo aumentare il numero delle ripetute diminuendo leggermente il tempo quindi magari andrà bene anche sei per cinque cioè sei volte ripetere questi cinque minuti in salita ad alta intensità laddove invece si vuole allenare la caratteristica famosa dei mangi e bevi ovvero i cosiddetti tratti collinari dove ci sono salite continue dove ci sono salite dolci ma comunque ripetute nel tempo appunto mangi e bevi faremo magari ripetute come ad esempio 12 per 2 cioè 12 volte staremo per due minuti alla soglia lo sforzo che dovrete fare è solo quello di scegliere quale di queste tre ripetute fare in base ovviamente alla vostra tipologia di salita che troverete poi in gara questo tipo di allenamento non è solo fondamentale per aumentare la tua resistenza aerobica e la tua potenza in salita ma servono anche per adeguare diciamo così e per allineare la tua mente al corpo servono cioè per rafforzare anche la mente questo lo dico sempre perché guardate che affrontare una salita fa bene sia alle gambe ai polmoni al cuore ma fa bene anche alla testa pensate la vostra forza di volontà che vi spinge ad andare in salita col caldo o col freddo quando non ce la fate più stringendo i denti con i muscoli che si infiamano i polmoni che vi bruciano bene questo è uno sforzo non solo fisico ma anche mentale quindi questo vi servirà poi in gara quando sarete esausti voi avrete già fatto questo sforzo in allenamento e la vostra mente sarà preparata a sopportare lo sforzo così come sarà preparato anche il vostro fisico fai questo tipo di allenamento almeno una volta a settimana quando ti senti molto riposato perché sono allenamenti molto estenuanti quando vedi che inizia a calare del 20 per cento tra una ripetuta e l'altra non continuare ma fermati vuol dire che sei bollito ed è l'ora di tornare a casa come sempre ovviamente non lo dico mai ma non lo do per scontato è bene riscaldarsi almeno 10 15 minuti prima di partire e fare un buon defaticamento prima di rientrare a casa ci sono molti modi per svolgere le ripetute qua dalle mie parti non ci sono salite molto impegnative per questo tendenzialmente le mie ripetute non superano mai i 3 4 minuti come le affronto le affronto in questo modo la prima parte di salita la faccio molto lentamente anche se a un ritmo diciamo vivace ma non cerco mai di spingere fino alla morte aumento progressivamente fino a dare il massimo nei tratti finali della ripetuta dopodiché scendo riscendo a valle recupero un minuto e ripeto l'esercizio per 5 6 volte un altro modo per affrontare le ripetute è quello di ridurre il tempo di recupero in questo modo si vanno a simulare quelle condizioni di salite molto lunghe e molto costanti dove generalmente non si recupera mai o non ci sono tratti in falso piano questo tipo di ripetizioni che possono essere molto lunghe fino a 10 minuti con recuperi molto bassi e ovviamente ad intensità leggermente più bassa sarete in grado di affrontare salite molto lunghe dove nella realtà diciamo non ci si riposa quasi mai infine un altro modo molto divertente per fare le ripetute è quello delle ripetute che io chiamo arrazzo si sceglie una salita molto ripida si sta alla soglia per un massimo di 60 secondi e si ripete per molte volte circa 10 volte in questo modo avrete la possibilità di sviluppare tutta la vostra potenza per un massimo di 60 secondi questo vi servirà nella vita reale per affrontare poi nelle gare quelli strappetti in cui è impossibile perdere velocità e magari fare un pochino di vuoto con i vostri avversari ok ragazzi per oggi direi che è tutto io continuo a divertirmi come un matto in questi panorami fantastici noi come sempre ci vediamo al prossimo video fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti buon allenamento e alla prossima ciao